Buonasera a tutti, chiediamo scusa per il ritardo, il Consiglio Comunale c'è immediatamente la parola al Sindaco di Guspini. Intanto ringrazio e saluto tutti i presenti, è un Consiglio Comunale che è stato convocato in via straordinaria urgente il congiuntamento ad altri Consigli Comunali, non faccio l'elenco dei sindaci e degli amministratori regionali presenti, così come ringrazio il Consiglio Provinciale, il Presidente Troppo e l'Aggiunta per essere qui oggi. Tra l'altro sono qui con noi anche il Consigliere Regionale, l'On. Giuseppe Pucu che ringrazio, mentre non sono presenti altri Consiglieri Regionali che evidentemente sono ancora impegnati in aula nei lavori del Consiglio Regionale. La convocazione del Consiglio Comunale di oggi ha come obiettivo quello di rivendicare attraverso un'azione congiunta e unitaria, rivendicare che questa struttura nella quale oggi siamo ospitati, di non chiudere. È stata annunciata la figura del centro di riabilitazione Santa Maria Assunta, dopo tante vicissitudini e dopo una storia molto lunga che nasce nel 2004 fatto insieme alla nascita della Fondazione. Un'idea sicuramente lodevole che aveva l'obiettivo di creare anche nel Medio Campidano, in una piccola provincia lontana dai capoluoghi, lontana dalle metropoli, dai grandi centri, un centro di cura che potesse dare delle risposte anche particolari a bisogni particolari. Quei bisogni che la gente va a cercare prendendo l'aereo, prendendo la nave e attraverso i viaggi della speranza che voi sapete sono di grande difficoltà e di grande disagio e comportano naturalmente una giunta di sofferenze per le famiglie e per le persone che sono costrette a farli. Un'idea, dicevo, che nel tempo per tutta una serie di problemi e di questioni che non sta a me trattare in questa sede è andata come è andata. Sappiamo che oggi la fondazione è stata dichiarata estinta che è stato nominato dopo il commissario straordinario, il commissario liquidatore nella persona del dottor Carlo Piras che è qui alla mia destra e che ringrazio per aver accettato il nostro invito e che sicuramente ci racconterà quali sono i procedimenti che seguirà e qual è il suo mandato con esoffenza. Dicevo, non siamo qui per fare processi a nessuno perché i processi nella pubblica piazza sicuramente non servono. Siamo qui invece per chiedere che questa struttura continua a restare attiva, possa continuare a dare le risposte ai cittadini e non soltanto ai cittadini di Buspili, non solo ai cittadini del Medio Campidano e non solo ai cittadini sardi. Abbiamo visto che in questi anni questo centro ha dato delle risposte forti, precise, di eccellenza e le ha date invertendo quella tendenza, come dicevo prima, dei viaggi della speranza. Anzi, Buspini, il centro Santa Maria Assunta è diventato invece meta dei viaggi della speranza. Una speranza che poi ha dato anche sui frutti. E dicevo, non siamo qui a fare processi sommari e non vorrei nemmeno che potessimo, che entrassimo nelle questioni che sono più strettamente tecniche. Mi riferisco in maniera particolare all'entità dell'esposizione debitoria che la Fondazione ha accumulato in questi anni, per ragioni che non sta a me direttamente perché le questioni sono molto complesse, che non sta a me giudicare. E dicevo, non vorrei che entrassimo nelle questioni dei milioni di euro di esposizione debitoria, perché questi numeri e questi dati purtroppo vengono piegati a piacimento. Lo dico perché a seconda che si voglia affossare l'idea o la fondazione si dice si aumentano i debiti, i numeri crescono, a seconda che si voglia o nascondere o minimizzare i numeri diminuiscono. Credo che ci siano altri momenti e ci saranno sicuramente altri momenti, altri luoghi nei quali verrà stabilita la verità, che se ci sono delle responsabilità di una cattiva gestione, qualora ci fossero, verranno accertate, che i responsabili, se ci sono dei responsabili, vengano politici. Quello che noi dobbiamo fare stasera invece è un'altra cosa e lo dico al di là degli schieramenti politici, lo dico al di là delle posizioni che ci vedono anche in contraposizione con lo schieramento politico dell'attuale governo regionale. Non permettiamo che qualcuno strumentalizzi questa questione, questa vicenda come un errore o una manchevolezza fatta da una parte politica. perché se permettiamo questo abbiamo perso, abbiamo perso tutti quanti, hanno perso le istituzioni, hanno perso la politica, hanno perso i cittadini, hanno perso tutte quelle persone che credono, che hanno creduto e che continuano a credere in questa struttura. E mi riferisco in particolare ai pazienti e ai loro familiari che hanno visto in questa struttura, in questi anni, una speranza e che hanno visto anche che in parte, certo non miracoli, ma sicuramente un livello, una qualità e una quantità di prestazioni che in altre strutture non si possono trovare. Ed è proprio la speranza dei familiari che stasera vogliamo, è la voce dei familiari che stasera vogliamo sentire in maniera particolare, è la voce degli operatori, quegli operatori che fanno sì e che hanno fatto sì in questi anni che questa struttura fosse la struttura che è diventata. E senza il capitale umano, senza le professionalità, senza i tanti operatori qualificati che hanno speso molto del loro tempo, della loro vita e che ci hanno anche rimesso in termini economici, perché non dimentichiamo che la maggior parte dei dipendenti della fondazione o ex dipendenti della fondazione bancano un arretrato di nove mesi di stipendio. Eppure hanno continuato a lavorare fino all'ultimo momento, eppure hanno accettato anche per poter conseguire alla struttura di non chiudere l'anno scorso, esattamente più o meno in questo periodo, hanno accettato anche di mettere una firma su un contratto, licenziandosi, accettando di chiudere il loro contratto di lavoro che invece avrebbe potuto permettere loro di mantenere la continuità, le organizzazioni sindacali e i sindacati saranno sicuramente più bravi di me a spiegarvi questa questione. E invece quei professionisti hanno accettato di lasciare la fondazione per essere assunti da una società di lavoro interinale. Oggi invece ci troviamo di fronte alla decisione da parte dell'Asio di non rinnovare i contratti. E tutti siamo qui a chiederci perché. Mi dispiace che stasera non ci sia il direttore generale, il quale è vero che non ha firmato, non ha sottoscritto la convenzione, l'accordo che è stato firmato l'anno scorso, esattamente il 2 agosto, con l'allora presidente della fondazione e con l'avvallo dell'assessore regionale. Mi dispiace che non ci sia perché in più occasioni il direttore generale dottor Più ha detto che questo è un patrimonio da salvare, questa è una struttura che deve essere acquisita al patrimonio sanitario dell'azienda sanitaria numero 6. E queste parole le ha ripetute anche l'assessore regionale. In più occasioni ho una rassegna stampa nutritissima dove le parole sono sempre le stesse, siamo interessati all'acquisizione della struttura, vogliamo acquisire la struttura al patrimonio della sanitaria regionale e sono le stesse parole, mi permetto di ricordarle, scritte e contenute nell'accordo dello scorso anno, quello appunto sottoscritto il 2 agosto, dove la regione riconosceva l'alto valore aggiunto dei servizi erogati, la necessità della loro salvaguardia e continuità, l'utilità per la regione di disporre di una struttura. Negli intesa però c'è anche un altro elemento, si avviava l'itero amministrativo per l'accessione a titolo oneroso della struttura all'azienda numero 6. Ora chiediamo soltanto questo, uno che la struttura non chiuda, che continui a erogare le prestazioni, che il personale che qua ha speso e si è speso, continui a operare. Due, intraprendere e portare a compimento il percorso che era stato intrapreso per chiudere in tempi rapidi la transazione che ormai è stata aperta in dieci mesi. Voglio ricordare anche questo, che il Consiglio Comunale all'unanimità, con un approfondimento che è durato dal mese di giugno, dai primi di giugno alla fine di luglio, ha approvato all'unanimità la delibera di nulla osta per l'accessione a titolo provvisorio della struttura alla ASL. Naturalmente lì c'era un impegno, l'impegno che quella cessione temporanea sarebbe diventata definitiva e questi dieci mesi, questi undici mesi di tempo in cui la ASL ha operato all'interno della struttura possono essere letti anche in un altro modo, se l'avvertenza, se l'accessione definitiva non si chiude in tempi rapidi. Possono anche essere interpretati come un danno creato dalla ASL in questi dieci mesi alla possibilità che è stata legata alla Fondazione di poter trovare un acquirente, un privato, che potesse rilevare la struttura e consentirle di continuare ad operare. Ecco, io mi fermo qui e lascio la parola prima di tutto ai familiari, prima di tutto ai pazienti e vorrei che intervenissero soprattutto per spiegare, anche se con gli occhi lucidi, che cosa questa struttura ha dato e che cosa si rappresenta per il territorio. Tutte le altre considerazioni sono considerazioni che sono già nel cuore di tutti e nella testa di tutti. Grazie. Allora, innanzitutto, buonasera. Allora, io sono... mi chiamo... si sente? Allora, io mi chiamo Manuela e sono la mamma di una bambina di due anni e mezzo. Una bambina che da quando è nata ha avuto dei problemi di salute. Dal terzo mese ha avuto bisogno anche di questa struttura. Io l'ho fidata qui da appena ci siamo accorti che lei aveva bisogno di... appena aveva bisogno di riabilitazione. Ci siamo rivolti agli specialisti di questa struttura e io l'ho iniziato un percorso. Piano piano abbiamo scoperto, prima di tutto, cosa aveva, perché le cose non ci sono arrivate così tutte in una volta. Le abbiamo scoperte piano piano. Ogni volta era un dolore in più che si aggiungeva. Qua ci hanno aiutato, hanno aiutato la mia bambina. Io voglio solo dire che qui noi ci siamo trovati come a casa nostra e il nostro primo pensiero quando ci alziamo. Ancora prima di portare il fratellino di via alla scuola, noi dovevamo preparare la bimba per portarla qui. Mia figlia non ci vede. Dunque quando sente le voci di questi operatori, mia figlia si lascia toccare. È tutto troppo difficile da spiegare perché anche per noi è stata una novità tutti i giorni. Noi stiamo chiedendo solamente che questo centro rimanga aperto e continui a lavorare e anche con gli stessi operatori perché mia figlia ha bisogno di loro e anche noi ci fidiamo di loro. Perché anche noi abbiamo ricevuto delle delusioni. Mia figlia è così perché ci sono stati anche degli errori. Dunque qua piano piano tutti i giorni ci hanno accompagnato in questo percorso mia figlia e anche noi genitori. Vogliamo solamente dire che la bambina sta avendo dei miglioramenti notevoli. La bambina ha compiuto dei passi in avanti che molti non ci avevano neanche garantito. Tutto merito di questi operatori e di questa struttura. Chiediamo solamente un po' di pace adesso di poterla portare qua in silenzio senza ogni anno dover tornare qui, sempre più o meno in questo periodo, a lottare perché questa struttura rimanga aperta. Perché noi abbiamo bisogno di tranquillità. Poi le nostre cose noi ce le affrontiamo da soli. A posto. Grazie. 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 Marco Lissi e il marito di mamma. Buonasera. Non so se riuscirò a fare un discorso organico perché l'emozione sicuramente è tanta. Noi di un anno fa siamo stati in due punti di un dramma familiare enorme perché mia moglie all'improvviso è stata colpita da un'encefalopatia degenerativa. In due mesi ha perso tutte le sue capacità cognitive. Abbiamo corso tutta la Sardegna, in parte anche l'Italia perché ci fosse un risponso più favorevole. Però la sentenza è stata drammatica e quindi nonostante il Vesta ci abbia consigliato una terapia sperimentale, alla fine il Brozzo avendo finito la sua parte terapeutica ci ha proposto un team di strutture a cui noi ci potevamo rivolgere, tra cui c'era anche il centro riabilitativo di Guspini. Noi ovviamente siamo di Guspini e abbiamo preferito venire a Guspini anche con qualche iniziale rilutanza, devo essere sincero. E quindi mia moglie non è stata dimersa dal Brozzo ma è stata trasferita dal Brozzo e mandata qui a Guspini. A quel punto ha cominciato una sorta di riabilitazione e dal 14 ottobre del 2009 viviamo anziché a casa viviamo in questa struttura. Trascorriamo anche 16-17 ore dentro questa struttura per cercare di, come dire, aiutare mia moglie a preservare il suo organismo. Con tutti questi sforzi lei finora non ha una piaga. L'alternativa che ci propone l'ASL e in particolare il direttore sanitario del centro riabilitativo è che dobbiamo andare in un RSA. Noi ne abbiamo visitato qualcuna per vedere qual è lo stato di assistenza. In realtà valutando tutte le cose non c'è un punto di vantaggio che possa andare rispetto all'RSA. Quindi, come dire, noi non abbiamo alternativa a questa struttura. Io anche con una dichiarazione nel giornale che ho fatto in questi giorni scorsi, anche se mia figlia non vuole, io la ribadisco con tutto me stesso. Cioè se io devo vedere mia moglie che continua a degravare il suo corpo in un RSA, preferisco che l'assessore regionale mandi un medico di sua fiducia e faccia una puntura a mia moglie perché è meglio farla finita prima che il suo corpo si continua a degravare così senza poter fare nulla insomma. Quindi, come dire, io vorrei che però da questa sera nascesse qualche operazione operativa perché noi siamo stati già informati che domani mattina mia moglie verrà dimessa e in maniera coatta verrà mandata alla RSA di Valermozza. Noi in questi giorni siamo stati convocati dall'UIT, che è l'Unione di Valutazione Territoriale dell'ASL 6, che ci ha già preannunciato questa situazione. Noi ci siamo opposti fermamente a questa soluzione perché abbiamo anche rifiutato di firmare il verbale. Ciò nonostante non contente l'ASL ieri attraverso il giudice tutelare perché anche il suo amministratore di sostegno mi ha fatto una notifica in cui ci viene comunicato questo trasferimento. Dicevo che se domani verrà questo trasferimento io sono pronto a fare qualsiasi cosa e l'ho già, come dire, in qualche maniera anche dichiarato che sono disposto a fare una resistenza passiva a questo trasferimento. Mi legherò al letto di mia moglie e non permetterò assolutamente che lei venga trasferita. Dopodiché però chiedo che da questa riunione esca fuori qualche iniziativa pratica perché dopo che voi tutti andrete via da qui domani noi saremo di nuovo soli e quindi sia i pochi pazienti che sono rimasti sia gli operatori sia il personale vorrebbe sapere come possiamo andare avanti affinché questa struttura non chiuda. Io da ieri ho nominato anche un avvocato per potermi assistere anche legalmente e quindi stiamo studiando quali sono tutte le strade che possiamo battere affinché questo non avvenga. Però davvero io vorrei che ci fosse un impegno da parte delle autorità affinché ci siano delle iniziative pratiche da portare avanti sin da domani mattina se non da stasera affinché il centro non trulla. Grazie. Io non parlo soltanto a nome della fila di una paziente ma parlo anche a nome come giovane medico che ha appena iniziato la sua attività. Sono perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto papà e quindi non sto a ripeterlo perché esattamente tutto quello che faremo domani è quello che lui ha detto. Volevo anche aggiungere che io ho girato per tirocini e per lavoro tante strutture e tanti ospedali che questa struttura muoia in questa maniera è veramente allucinante perché c'è un clima c'è veramente una possibilità per aiutare i pazienti che da altre parti erano a trovare. Sicuramente non si trova in un RSA che ha dei fini completamente diversi da questa e far muodire questa struttura appunto che ha questa peculiarità a favore di altre strutture che comunque non ce l'hanno è veramente un abominio. grazie mille. Grazie mille. Signor di Romulcia, papà di Marco. Dunque io, io non mi apre niente bisogno. Io sono il papà di Marco. Eccolo qua, Marco. Questo è Marco. 27 anni, incidente a 24. Parlo prima di lui. Lui, siccome vedo molta gente qui che non ho mai visto, in tre anni, parliamo anche di voi. Non è né demagogia e né populismo, perché qualcuno già incomincia a... vedo che già la faccia non è un po'... Allora, parlo prima di Marco. Marco l'ho portato qui che stava male. Incidente stradale, coma. Per tanto tempo era tra qui e San Gabbino. Tirato per i capelli un sacco di volte, perché stava per morire, per problemi ignoranti al suo trauma. Devo ringraziare i medici. Personale osso, infermieri, vasche. Non è riuscianesimo questo. È la realtà. Di conseguenza, me l'hanno tirato un po' su. Prima Marco pesava 35 kg, oggi ne peserà oltre 50 kg. Fisicamente è a posto. Si sta, con tutte le cure che gli hanno fatto, la psicologa, il neurologo, e la compagnia catà. Adesso Marco, se lo chiamo, gira leggermente lo sguardo. Se lo chiamano loro, gli operatori, gira un po' lo sguardo. Se gli faccio il sorretico ai piedi, si ritrae. Ciò vuol dire che sente qualcosa. Ora che cosa vengo adunque? Mi chiama il direttore generale. Signor Murgia, qua chiudiamo, Marco, non c'è posto e cos'è, lo mandiamo all'ospedale. All'ospedale. Cioè, è da folli. Perché gli ho detto, io me l'ho detto, senza cosa di smendita, anche da parte sua, gli ho detto, guardi, io non sono medico, voi siete dei medici. Marco, lei in queste condizioni, di conseguenza, se io lo porto all'ospedale, rimane così dieci giorni, e cosa? Non regredisce. Può darsi che mi abbia anche un trauma, che potrebbe precipitare. che questo è così. Io di conseguenza, con Marco, da qui non mi muovo. Perché se ho la collaborazione, delle persone che sono qui, che mi auguro, da qui non mi muovo. Perché se anche mi danno il corso del giudice, al giudice allora gli chiedo, di portare tutta l'equipe di qui, e portarmela all'ospedale, per continuare il corso terapeutico. Perché se no, non esiste. Questa è la prima cosa che dico. La struttura. La struttura, come stavo facendo prima, è un... cosa delinquenziale, a chiudere. Perché strutture così, non ce ne sono neanche in continente, non solo in Sardegna. Ce ne sono pochini anche in continente, sia del personale che c'è, e non è rossianesimo, torno a ripetere, e per la struttura com'è, nuova. Di conseguenza, detto questo, sulla struttura, sul marco, sul personale, tutto quanto, ora arriviamo all'inverno politico. Il livello politico qui, obiettivamente, c'è da tanta gente. Questa struttura qui, è un anno e mezzo qui nella Puglia. Non ho mai visto uno, né di destra, né di sinistra, né del centro. Mai visto nessuno. Mai. non è demagogia, neanche populismo. Non ho mai visto nessuno. Questi quanti diranno chiaramente che si sono interessati, ma di notte allora venivano. Io vengo anche qui a tutte le ore, io viaggio da Ghilarcha, Ghilarcha, tutti i giorni. La mattina sono qui e la sera riparto. In questi giorni, onde evitare non si sa mai, perché qua non c'è da fidarsi, sto dormendo qui. Allora, tornando a livello politico, facendo anche dei paragoni, quando mi si dice 25 milioni, 30 milioni, 40, e cosa del genere, a parte il fatto che, boh, non c'è scritto da nessuna parte, sono parole, 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 parole. Prima. Secondariamente, faccio dei paragoni molto semplici, per capirlo tutti, non demagogia, né populismo. Se tanto per dire l'assessore al comune o l'assessore alla regione, come ce ne sono e che leggiamo in tutti i giornali e in peri giornali, che rubano l'assessore alle pecore, a cosa, alla regione, quello ruba, fa manprina, pregano altro che 25 milioni di euro. Cosa fanno? Chiudono la regione. me lo dovete spiegare. O lo stesso che c'è la provincia, se la provincia è piena, non finire, cosa fanno che non la provincia? Al comune se un assessore intanto per dire riesce a fregare non 25 milioni perché il bilancio non c'è di 25 milioni, lo capisco, ma se frega ha rapportato un milione. Che fanno? Non fanno più certificati di nascita? Non fanno più matrimoni? Non fanno più nulla? Lei chiude. Se qualcuno fa così, lo denuncia, lo fa arrestare, ma è una cosa continua. E allora non capisco per quale motivo questo qui deve chiudere. Cioè, me lo devono spiegare con te. I politici e cosa, non lo so se c'è altra gente politica di grande libero, ma non credo che mi siano venuti qua. Forse avranno da pensare al mare, barche, non lo so, non lo so cosa avranno da pensare. Chiaro? Mi dispiace il bescovo. No, il bescovo non c'è. Peccato, mi dispiace, mi dispiace, perché se no anche a lui avrei detto, che lui sicuramente mi avrebbe detto, porto la solidarietà della Chiesa. Allora, poi, c'è Ornella, c'ha figli, gli altri che hanno figli, gli avrebbero detto i figli quando sono disoccupati. Tranquillo, figlio mio, non si mangia, però abbiamo la solidarietà della Chiesa. Non è uno scherzo. E beh, si compra lo scarto, si compra la scartola, perché altra cosa non ce ne fa, la solidarietà. Quello che io sento dire a tutti è solidarietà. la solidarietà, insomma, poi alla fine mi viene da parlare male, la solidarietà non ce ne fa niente nessuno, perché Marco non guarisce come solidarietà. Marco lo manda all'ospedale e se la prende in quel posto. Chi è disoccupato, solidarietà, però gli hanno detto di stare tranquilli, eh. Io sono rimasto 30 anni tranquillo, che tutti i casi dicono, stai tranquillo, di un posto di lavoro, tranquillo, di 30 anni sono rimasto negli anni 70. Capito? Cioè, non lo so, non ho altro, perché, cioè, ce ne sarebbe da dire, però obiettivamente penso di aver detto qualcosa. E spero che sia riuscito. applausi. Grazie. Applausi. 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 Buonasera, io sono una persona che non parla molto, io guardo i fatti, perché amo. E devo dire che da quando sono arrivato qui, il mio humor era sotto i piedi, perché sono arrivato qui per l'infezione, al midollo, le gambe, si muoveva solamente, poco, poco, di una gamba. Adesso mi sono ritrovato con le gambe, applausi. Non ci sei. Non ci sei. Ho capito. Le gambe funzionano un po' meno. Non ci sei. E al posto delle parole vorrei farvi vedere. Allora. Ci vediamo. Grazie. Di ambulatore. Questa è mia sorpresa. Non ce l'ho aspettata. Adesso si fa, la saccaggio. non ce l'ho' aspettata. Non ce l'ho' aspettata. Non ce l'ho' aspettata. E penso che infatti pagano più di tante parole. Dove a creare il buon e pare. Grazie. Siamo alla conclusione dell'altro intervento. Io vorrei che stasera ci fosse una sorta di occupazione permanente della struttura perché la mia preoccupazione è che tutti andate via e noi rimaniamo domani mattina da soli. Quindi che ci sia un altro formato da parte di tutti i possibili che non è della zona, da parte dell'amministrazione provinciale perché non siamo mattati soli perché se questa gente che finalmente si è in mostra stasera va via, noi domani siamo soli, potremo fare tutto quello che possiamo fare ma siamo tre persone quindi non possiamo arrivare a tutto. Ma va bene, quindi chiediamo davvero che da parte vostra ci sia un impegno a partire da questo momento, dal momento in cui si chiude la riunione per procedere oltre. Grazie. Inizia a parlare per primo a nome dei dipendenti. Stamane abbiamo avuto un incontro intenso per certi versi da un punto di vista tecnico magari anche produttivo, da un punto di vista della sanità, dei pazienti e da un punto di vista di me medico molto poco produttivo. Perché? Si sono raccontate tante storie. Noi siamo qua, ci siamo formati, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato per i pazienti, abbiamo lavorato per loro senza uno stipendio per dieci mesi e una tredicesima. E non abbiamo mai mancato neanche un giorno di ferie. Io non ho fatto un giorno di malattia neanche di ferie l'anno scorso. Perché? Perché credevamo in un sogno. Credevamo che in Sardegna potesse esistere una riabilitazione di alta qualità per i pazienti sfortunati che purtroppo se non c'era spazio a Santa Maria Bambina finivano in RSA. Quindi se, come succede a tutti noi, perché io l'ho vissuto anche sulla mia pelle, sulla mia famiglia, ma l'avrete vissuto anche voi, e purtroppo ci succederà a noi giovani, anche sui nostri figli, che qualcuno si ammala, in regione Sardegna rischi di finire in un RSA. Allora, se noi siamo serviti per tre anni vuol dire che c'era la necessità di una riabilitazione neuromotoria. C'era la necessità di un pediatrico in Sardegna. Sono un neuropsichiatra infantile, avevo una lista d'attesa ad agosto di 40 bambini con tutti questi fisioterapisti che vedete qua, con gli psicologi, i logopedisti, formati in continente, tornati da fuori. Allora, se a noi questo ci interessa, l'ho detto al Consiglio Comunale, il sindaco già c'era, era nuovo sindaco, se a noi ci interessa, ok, ci siamo, siamo fatti a bloccare. C'è stato richiesto dal sindaco, dall'assessore Liori, da Temussi, suo direttore generale, di licenziarsi in tronco, l'ho detto anche oggi, rinunciando ad ogni nostro ammortizzatore sociale per tre anni e ricollocarci più comodamente in ASLO, in ASLO 1, in ASLO 2, in ASLO più grosse, per dare, secondo noi, un servizio di qualità. In tre anni non abbiamo mai avuto una, dico una, denuncia, caso raro in questa, ma in tutte le ASLO, una denuncia, chiunque di del contrario. Abbiamo avuto tanti ringraziamenti, non abbiamo avuto tanti soldi, non abbiamo avuto tanti regali, tante grazie, tanto affetto, ogni volta che ci muoviamo i pazienti vengono, ok? Allora, io penso che noi abbiamo fatto questo, penso che sia giusto, è stato riconosciuto dall'assessore, ok? Un anno fa l'assessore ci ha chiesto quindi di, con le organizzazioni sindacali, per licenziarci in tronco per gestire la struttura. La nostra domanda è stata oggi, e quindi a volte se ne sta discutendo nei tavoli tecnici, ma a questo punto noi abbiamo chiesto anche con le organizzazioni sindacali di gestire i tavoli politici, lo chiedo alla provincia, lo chiedo al comune, lo chiedo agli altri comuni presenti, a prescindere dall'orientamento politico. Perché io penso che abbia ragione il signor Dino, la malattia non è né di destra né di sinistra. Qua stiamo parlando di persone, non pazienti, persone che stanno molto male, che potrebbero migliorare, e se finiscono in RSA e non fanno la riabilitazione, arriveranno con il loro indica, ok? Allora, se non serve tutto questo, va bene, noi vi salutiamo, ci prendiamo quello che ci è stato proposto, cioè un ammortizzatore sociale che non ci interessa, perché non interessa lavorare, ma non perché interessa lavorare, perché siamo dei tecnici della riabilitazione, quindi il lavoro, per fortuna, si trova, magari in continente, però si trova. Noi volevamo credere che in Sardegna si potesse fare una riabilitazione di alta qualità, di professionalità. Abbiamo dimostrato di essere accoglienti e professionali. Invece, c'è stato proposto di avere sei mesi per vedere il prezzo della trattativa e per poi passare il bene. Cosa succederà? Ok, c'è stato spiegato che tecnicamente è la migliore possibilità questa, perché il bene ha troppi debiti, non ci interessano, perché i debiti sono di chi li ha fatti e pagherà. Però c'è un problema, che per almeno un anno e mezzo, che noi ci preoccupiamo, la struttura non potrà funzionare, perché se sappiamo che è internavalutata, poi è la nostra giudiziaria. Se poi è vero, non mi tengo di leggi, non voglio dire fesserie, qua chiedo ai giudizi di informarsi, che come sta succedendo in Clinica Lai, in Cassazione, poi, per il beneficio della Clinica Lai, tutto è riandato ai creditori, perché giustamente la Cassazione non vuole la responsabilità di un fallimento, quindi non solo nessuno ha visto una lira, ma neanche gli eventuali compratori privati potranno comprarla, forse, questo lasciamolo pari, però io faccio delle riflessioni. Noi avremo che in Sardegna, il Santa Maria Bambina, che non copre neanche il Nord Sardegna, dovrà compiere tutta la Sardegna, se non hai posto, non hai posto, perché se hai la sfortuna che prima che un paziente venga dimesso, tu non hai spazio, per almeno, finché non è in regola, non è venuta la struttura, mettiamo che tutto venga fatto, tutto approvato, fra due anni, si riapre, ok? E si riparte da zero. E io penso che questo sia un problema politico, non solo tecnico, secondo me, perché noi abbiamo dato un mandato a chi abbiamo eletto, e penso che, a prescindere dall'occupazione, sia importante. Poi, purtroppo, io ho un difetto, io sono un cattolico, lo dico, mi dispiace questa zona, l'ho sempre detto, me ne va, io ci credo, che se è vero che l'ultimo è il Cristo e il malatto, perché siamo stati lasciati soli dalla Chiesa? Ma non è solo dalla Chiesa. Abbiamo mandato per via legali, abbiamo mandato per via legali con i nostri sindacati, ben due comunicazioni alla Maggiore Testata Giornalistica Regionale, l'Unione Sarda, che ha ritenuto per ben due settimane non di interesse regionale questa vicenda, non ci ha pubblicato neanche una richiesta l'assessore Violi, che nel frattempo, per motivi tecnici, non ci riceveva. Allora, chiediamo, almeno dal punto di vista della politica, se voi che fate politica, potete almeno dare voce alle nostre parole, perché è difficile dalle testate regionali destare interesse. C'è da dire che dal primo luglio siamo liberi, quindi siamo liberi di poter andare in giro a dirlo, andare su internet, perché è giusto. C'è da dire, non è un discorso, che lo faremo chiaramente con il sindacato, ci mancherebbe altro. C'è da dire che, l'ho detto al commissario, che siamo molto preoccupati che l'attuale proprietario del bene, che noi ce ne andiamo, ce ne andiamo domani, molto probabilmente, no, sicuramente, e tutta questa struttura è aperta, non c'è una chiusura, potrebbe scomparire tutto. Noi abbiamo lavorato molto, abbiamo usurato, è vero che non le abbiamo comprate noi queste cose, però ci abbiamo lavorato, abbiamo usato un loco, abbiamo usato una vasca, ci preoccupa questa, almeno questo vorremmo dirlo. C'è da dire un'altra cosa, abbiamo parlato con il dottor Pio che si è reso molto disponibile, ci ha spiegato molte cose tecniche, che questa struttura non può andare avanti perché non c'è l'agibilità. Io chiedo ai sindaci, che hanno facoltà, e ai politici, di controllare per favore questa ASB tutte le strutture non agibili, perché se chiediamo noi è giusto che se l'ospedale non è agibile, più da domani, che non è agibile, più da domani, più da domani. Sì, per esempio, l'universitario è agibile, più da domani, più da domani, più da domani, più da domani. Perché? Non per altro, perché noi abbiamo rischiato per un anno, cioè è giusto che non rischino neanche gli altri dipendenti, gli altri pazienti. Cioè, questo, io me ne intendo, però vi chiedo se è così, perché se la motivazione è solo l'agibilità, io mi chiedo che voi ci date una risposta. Niente, abbiamo fatto una riunione stamane, allora ringraziamo l'assessore Manca, faremo un altro tavolo, ringraziamo il commissario, non si sono dimenticati di noi, però io penso che questo non sia, lo ho già detto, un centro di lavoro, sia un centro di servizio sanitario, è una cosa diversa, cioè il nostro obiettivo non era avere un ammortizzatore sociale, gliel'abbiamo detto, vorremmo lavorare per le nostre competenze, non vorremmo fare altro. Basta, penso di aver detto un po' tutto. Grazie. Ha chiesto di intervenire Franca Mandis. Buonasera a tutti, chiedo scusa se non farò un intervento molto organico, non sono abituata a fare discorsi di grande politica, intervengo innanzitutto come cittadina, come cittadina voglio portare la mia solidarietà ai lavoratori della struttura, ai pazienti, ai familiari e come cittadina mi preoccupo dei servizi sanitari presenti nel nostro territorio. Non sembri un assurdo, ma noi abbiamo sentito parlare di pazienti con patologie particolari, patologie che hanno bisogno di assistenza particolare, riabilitazione, riabilitazione qualificata. Questa struttura è una delle poche esistenze in Sardegna, ma questo non ci deve fare spaventare, perché se non ci sono strutture riabilitative in Sardegna mancano anche altre strutture molto più comuni, molto più frequenti per il grande numero dei malati che sono costretti a rivolgersi alle strutture sanitarie. Parto dalla mia esperienza personale, ho avuto diversi incontri ravvicinati con patologie oncologiche e per potermi curare sono dovuta andare a fare i viaggi della speranza. Patologie tutto sommato banali, che però la nostra regione non è in grado di assurrare nei tempi dovuti perché queste siano efficaci. il nostro territorio non ha strutture neanche per le più banali patologie. Abbiamo avuto la fortuna di portare avanti un'iniziativa come questa per avere assistenza sanitaria di eccellenza. Vogliono togliercela, ma non è la prima che ci vogliono togliere. Giusto un anno e mezzo fa ci siamo visti togliere il consultorio. Io come cittadina, ma anche come componente di un'associazione, insieme all'amministrazione pubblica e al Consiglio provinciale, abbiamo creato mobilitazione, abbiamo raccolto nel nostro Paese più di 2.000 firme che portavamo all'allora assessore alla sanità regionale. Non è servito niente. Il problema qual è? Non sono i debiti, non sono l'agibilità della struttura, perché se no ti dovrebbe mettere a Italia o tutta l'Italia intera. Il problema è, abbiamo bisogno di strutture sanitarie di questo tipo, a maggior ragione, che delle altre più semplici, più comuni e che devono essere presenti in tutti i territori. Se la risposta a questa domanda è sì, né questa né le altre strutture devono essere chiuse. Io non voglio soltare la solidarietà ai malati, ai parenti che oggi sono in questa struttura. Io voglio chiamare in causa i cittadini che, per loro fortuna, non hanno bisogno di questa struttura. Io voglio chiamare in causa i cittadini che, per qualsiasi motivo, io mi auguro di no, ma potrebbero avere bisogno di una struttura sanitaria, che si mobilitino a difesa di questa, ma di tutte le altre strutture del territorio, della regione, della nazione, per avere un servizio sanitario che sia dignitoso per una nazione civile. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Posso? Io chiedo scusa, ma io dico subito presente all'appello di Paola, anche perché potrei essere. Anche io ho tirato gli ospedali del continente per una mia patologia particolare nella testa e sono conosco, non tanto per me, che bene o male riesco ancora a sorridere, a parlare e ho ancora la voglia e la volontà di essere più presente a portare la mia testimonianza. Lo faccio per Viola, per Paola Loi, per Marco e per quell'altro signore in carrozzella di cui mi è sfuggito il nome, perché la patologia di cui sono stato operato mi ha impedito anche la possibilità dell'ascolto ad un orecchio. E quindi sono qui con una o due semplici domande da pormi e da forci. La prima è questa, una struttura come questa ha la sua validità nel territorio, nel territorio della provincia del Medio Campidano, Presidente, ma non solo, nell'area più vasta di questo territorio, al di là dell'agibilità, perché questa è una sciocchezza, perché se cerchiamo l'agibilità tutti gli ambulatori medici e i medici di base sarebbero da chiudere a Custini e nell'intera provincia, non solo, non solo, quindi non è un problema l'agibilità, non è un problema. Quindi se la struttura è utile e la riteniamo necessario, se il servizio che offre è di eccellenza, così come è stato visivamente testimoniato, sarebbe bello far vedere, ma anche visivamente, attraverso i canali televisivi che ci sono anche a livello territoriale, le testimonianze che ci sono state chiusi. Se a queste due semplici domande rispondiamo sì e diciamo che la struttura è necessaria, che è il servizio che offre di eccellenza. Allora, signori miei, amici miei, dobbiamo impedire fisicamente la smobilitazione del centro, a partire da stavolte, a partire da stavolte. E io sarò presente, io domani devo fare la quinta risonanza magnetica, e qui ci sono medici, e sanno che ci dovrei arrivare in uno strato, in una condizione di stress, non certamente all'eccesso, ma siccome la mia adrenalina poi è di quelle che quando si muove non conosce più ostacoli eccetera, non me ne frega niente, vuol dire che andrò stressato a fare la risonanza magnetica. Ma io domani mattina, sarà anche per poco, sarò qui presente. E i cittadini di Guspini, i miei co-cittadini, devono sostenere questa struttura. Signori miei, non facciamoci illusioni. Io sono andato per un intervento chirurgico alla tiroide e mi sono ritrovato con un tumore alla testa. Voglio dire che ognuno di noi singolarmente, senza toccarsi, ognuno di noi singolarmente potrebbe essere un potenziale cliente di strutture come queste, di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di strutture di eccellenza nel nostro territorio. Quelle poche che abbiamo le dobbiamo tutelare. Ultima cosa, e chiudo, e la chiudo in termini politici. Qualcuno mi deve spiegare perché Casa Serena d'Iglesias è stata salvata. Qualcuno mi deve spiegare perché Oristano, la radio di struttura è stata salvata. Qualcuno mi deve dire perché qui questa struttura non si può salvare. Allora, signor sindaco, egregio presidente della provincia, domani mattina con le fasce tricolori e la fascia azzurra da esibire non solo nelle circostanze di appuntamenti mondani o quant'altro, ma domani con la fascia tricolore e con la fascia della provincia. Allora, signor sindaco, signor sindaco e con la fascia tricolore e con la famiglia, con la presenza nostra, dei cittadini e dei familiari, ai quali va tutta la mia solidarietà. E anche un riconoscimento, consentitemelo, all'onorevole Cucco per la sua presenza qui, anche perché io credo che solamente di aver abusato della sua pazienza, chiamandolo in un modo così gruspante come piace, a me, ad essere presente alla riunione di oggi. Grazie.